Una porta sbagliata, il momento sbagliato forse, e Lorenzo Nardelli ha trovato la morte. Sembra infatti che la sera del 9 agosto, quando è stato ucciso dai due cugini moldavi nel condominio di Rampa Cavalcavia a Mestre, dovesse andare a casa di una escort con cui aveva preso appuntamento telefonicamente, ma una volta salito avrebbe confuso la porta entrando invece dai due cugini, dove era socchiusa e che a quel punto l'avrebbero scambiato per un ladro. Versione fornita dall'inizio, come conferma uno degli avvocati difensori. Alla luce di queste nuove indagini fatte dalla squadra mobile, bisognerà accertare cosa è successo al momento in cui il povero ragazzo si sarà reso conto che quello non era l'appartamento della donna con la quale aveva l'appuntamento. I due cugini si sono resi conto che questo qui evidentemente era un malintenzionato, quindi bisognerà vedere cosa è successo in quel momento, chi ha agito per primo, che cosa è scaturito e quindi i comportamenti che ci sono stati da entrambe le parti. Quello che si può dire però è che la fatalità è talmente tragica che lascia veramente sconcertati. La donna interrogata dalla polizia avrebbe confermato di essere stata contattata dal 32enne, fissando l'incontro e scambiandosi anche alcuni messaggi, ma non l'avrebbe più visto arrivare. Questo cambierebbe lo scenario attuale. Cambia soprattutto la qualificazione giuridica del fatto, non ci troviamo più di fronte ad un omicidio volontario, un omicidio doloroso, ma ci troviamo di fronte a un'ipotesi di legittima difesa, eccessiva ma una legittima difesa. Difficile però non chiedersi fino a che punto si sia spinta questa legittima difesa per portare Lorenzo alla morte. Bisognerà vedere all'esito dell'autopsia, dell'esame autoptico che non è ancora stato depositato nella sua interezza, quale sia effettivamente la causa della morte. Perché abbiamo accertato, è stato accertato che l'ascensore si era bloccato, non era complanare rispetto al pianerottolo, il piano dell'ascensore non era complanare rispetto al pianerottolo, si è creato un gradino, ci sono le porte che si sono bloccate, bisogna capire se la morte è venuta per contusione con il gradino, con le porte e quant'altro, oppure si è stata cagionata dalla forza. L'8 settembre è prevista un'udienza davanti al tribunale del riesame cui gli avvocati hanno presentato istanza di scarcerazione. Io ritengo che a questo punto non si possa più parlare di omicidio volontario, non c'era nessuna volontà da parte dei nostri assistiti di uccidere il povero ragazzo. Tutto sommato probabilmente hanno trasceso sicuramente le loro intenzioni. Contattato il legale della famiglia Nardelli si è riservato di esaminare attentamente gli atti prima di rilasciare dichiarazioni in merito alle recenti novità.